strepitoso Gianmarco Tamberi ai mondiali di atletica di Budapest conquista l'oro nel salto in alto superando la misura di 2,36 metri bissando il trionfo olimpico di due anni fa una carriera meravigliosa quella di Jimbo per l'atleta marchigiano il titolo di campione del mondo è il coronamento di un percorso stupendo dopo l'oro di Tokyo 2020 la vittoria ai campionati del mondo indoor e due titoli europei peraltro un trionfo con brivido la prima volta assoluta di Tamberi a livello iridato arriva dopo aver arrischiato l'uscita nelle qualificazioni e un errore in questa finale un altro risultato storico per l'atletica italiana Jimbo entra così definitivamente nella leggenda dello sport italiano mettendo in bacheca l'unica medaglia d'oro che mancava alla sua collezione l'anconetano delle fiamme gialle completa il grande slam dopo aver trionfato a Tokyo 2021 ai mondiali indoor di Portland 2016 oltre che agli europei Amsterdam 2016 Monaco 2022 medaglia d'oro che nega guardare pensato ecco 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 ecco